Lavora per la zattera, sull'isola di lei Popolare giornalista di Sky TG24, con la sua voce abituato a commentare i fatti dell'attualità politica ma quando si siede al pianoforte è tutta un'altra musica. Massimo Leoni ha appena pubblicato il suo primo album, Canzonette Morali. Mi piaceva il gioco tra il serio e invece il divertente. La canzonetta per Antonomasi è una cosa che fa evadere, per lo meno in Italia è quasi sempre stato così. E Morali perché ho l'ambizione di dire qualcosa di interessante e poi perché alla fine Leopardi sì, mi è sempre piaciuto. Nel disco anche una chicca che impreziosisce il lavoro di Massimo Leoni. Il brano Pensieri dalla zattera è cantato in duetto con Giorgia. Pensieri dalla zattera parla del modo di evadere da una situazione in cui non si sta più bene, da un amore in cui non si sta più bene, che probabilmente non c'è più. La zattera è il simbolo della possibilità di fuga e poi il pezzo si conclude, come quasi sempre nella vita, con l'arrivo presso un altro porto e quindi un altro posto dove rimanere, attraccare, avere delle speranze. Questo è un po' quello che racconta la canzone. Giorgia è un'amica da tantissimo tempo, direi da prima che diventasse Giorgia. Mi ha fatto questo enorme regalo e io la voglio molto ringraziare. Io penso che il pezzo sia molto bello, però la sua voce l'ha fatto decollare verso posti che non pensavo neanche io e credo che siamo riusciti a trovare un bel incontro tra anche stili e anche modo di scrittura molto diverso. Però lei è grande. Canzonette Morali parla di tenerezza, di amore, di fragilità e imperfezione, ma non solo. Ci sono squarci di realtà e di poesia, con liriche raffinate e sonorità che spaziano dal jazz al cantautorato di qualità, tanto che Massimo Leoni definisce così il suo lavoro. Musica per adulti ovviamente non ha niente a che fare con il porno, però evidentemente c'è un approccio anche delle sonorità, il modo in cui sono costruiti i pezzi che fa riferimento non proprio alla contemporaneità assoluta. Questo non vuol dire che secondo me la buona musica è universale e quindi il tredicenne che apprezza la musica e che cerca cose interessanti magari può essere interessato. Io sarei ovviamente molto contento. Impegnato nel difficile ruolo che lo vede conciliare la passione per la musica col giornalismo, Massimo Leoni si prepara a una serie di eventi live, tutti da scoprire.